Allora ragazzi ci siamo, sono in partenza da Pesaro, almeno dieci camion con tanta sabbia dalla nostra riviera. Gori lo conoscete, quando è venuto l'anno scorso a Pesaro mi ha detto voglio fare una grande opera portando la spiaggia nel centro di Bergamo nella piazza degli alpini. Voglio fare come hanno fatto a Parigi e io ho trovato la soluzione e i camion sono in partenza, fortunati i bergamaschi perché per quest'estate avrete una spiaggia nel pieno della città di Bergamo.